I socialdemocratici conservano la bassa sassonia, un duro colpo per Angela Merkel che la settimana prossima avvierà i negoziati per la formazione del governo. Riconfermato il ministro presidente del Land, Stefan Weil, si tratta della prima vittoria dell'Espede da quando lo dirige Martin Schulz, dopo il risultato, peggiore dal dopoguerra, registrato dai socialdemocratici e alle politiche. In bassa sassonia esce sconfitto Bernd Altusman della CDU, il partito della Merkel. Un risultato che probabilmente alimenterà ulteriori critiche dei cristiano sociali nei confronti della cancelliera, con il rischio di complicare le discussioni sull'esecutivo con l'estrema destra della FD e i verdi lontani su temi chiave come immigrazione, Unione Europea e fisco.